eccoci live da ps5 ci chiede la linea il nostro inviato da roma per una notizia straordinaria ecleto che cosa succede grazie diana come vedi alle mie spalle qui a via del corso e comparsa una straordinaria playstation 5 e come stanno reagendo le persone i passanti sono stupiti si fermano per farsi selfie e fare foto grazie cleto richiedici la linea quando avrai più informazioni ma adesso colleghiamoci con napoli per un'altra breaking news incredibile qui spiaggia c'è un'impronta che sembra quella di un divoratono di horizon wow sembra che da tutta italia stiano arrivando altre notizie di invasioni legate al mondo playstation se anche la tua città è coinvolta diventa nostro reporter per questa edizione è tutto grazie mille continuate a seguirci live da ps5